Ennesimo pareggio per il Trapani che ieri ha ospitato il provinciale Illamezia secondo in classifica. Debutto in panchina per mister Alessandro Monticciolo. Sulla carta un buon risultato, il miglior pareggio fin cui ha ottenuto e visto l'obiettivo dell'avversario alla sua posizione in classifica. Due rimonte per il Granata, entrambe su calcio di rigore, realizzate al 36esimo e al 53esimo dopo i momentanei vantaggi di Ferreira e Terranova per Illamezia. Una buona gara fino ad un quarto d'ora dal termine quando i Granata hanno prodotto un possesso palla sterile non riuscendo ad arrivare in area. Da segnalare invece la buona prova del giovane Pipitone, corsa e carattere. Il resto dell'analisi della partita invece verte sull'aspetto psicologico ed emotivo. La squadra gioca con un fardello sulle spalle che non gli permette di essere serena. Una squadra che al primo pareggio va sotto la curva a chiedere scusa non è una squadra che ha capito in che posto si trova. Come questa città vive il calcio. Nessun tifoso ha fatto pressione ad inizio campionato, tantomeno durante le partite. Il sostegno non è mai mancato e non sembra proprio un malessere dettato dalla voglia di vincere insita nell'animo di chi gioca per vincere. Quello è naturale e comprensibile. Forse i proclami arrivati ad inizio stagione con obiettivi dichiarati dalla stessa società hanno avuto l'effetto contrario proprio sui giocatori. Un peso forse eccessivo da portare che si traduce nell'atteggiamento in campo che però non mina l'impegno e la voglia di sudare la maglia, ma si traduce in mancanza di quei guizzi che possono cambiare una partita di una stagione. Lasciate a stare i numeri ragazzi, non guardate la classifica, non sentitevi col fiato sul collo. Ritrovate la voglia, la gioia di giocare, l'orgoglio di indossare la maglia del Trapani. Fate gruppo e sostenetevi, fidatevi l'uno dell'altro. Il sostegno della curva e della città non mancherà. Grazie.